Buongiorno a tutti e benvenuti alla maratona di lettura dedicata alle donne. Questa è la seconda delle tre giornate dedicate a Louisa May Elcott. Oggi leggeremo alcune pagine tratte da Jack e Jill, Incontro alla vita. Uscito per la prima volta nel 1880, si tratta di un romanzo per ragazzi che, insieme a piccole donne, entra nella produzione della Elcott di romanzi di formazione. I protagonisti, Jack e Jill, insieme ai loro amici, crescono nel corso dell'anno narrato nel romanzo. Le pagine che leggeremo oggi sono tratte dal primo capitolo e parlano di un incidente avvenuto in slitta sulla neve. Oltre a ciò, in queste pagine emerge anche uno dei temi centrali del romanzo, ovvero la forza dei personaggi femminili. Infatti Jill, la protagonista, pur essendo una bambina, vuole a tutti i costi dimostrare quanto le femmine possano avere lo stesso valore dei maschi. Era il grido che risuonava continuamente in un luminoso pomeriggio di dicembre, quando tutti i ragazzi e le ragazze di Harmony Village erano usciti a godere la prima neve della stagione. Su e giù, su e giù per tre lunghi pendii, i ragazzi salivano e scendevano con tutta la rapidità permessa dalle loro gambette e dalle slitte. Un sentiero scendeva dolcemente nel prato e qui si riuniva il mondo piccino. Un altro passava veloce sullo stagno, dove i pattinatori sfrecciavano come gli insetti sulle acque stagnanti. E il terzo, partendo proprio dalla cima dell'erta collina, terminava bruscamente contro uno steccato, eretto sull'alta scarpata, che scendeva picco sulla strada. Alcuni fanciulli e alcune fanciulle si erano seduti appoggiati a questo steccato per riposarsi dopo una corsa emozionante e intanto si divertivano a criticare i loro compagni ancora assorti nel più piacevole degli sports. Laura e Lotti se ne stanno al sicuro sul pendio che finisce nel prato e Molly Lou è l'unica ragazza che osa tentare la lunga discesa dello stagno. Io non lo farei per tutto l'oro del mondo. Il ghiaccio non può ancora essere solido, anche se fa abbastanza freddo da far ghiacciare il naso. No, non è la sola, ecco giacca e gile che scendono come pazzi! Dall'alto scendeva una slitta rossa, con un ragazzo di denti candidi, dai capelli d'oro e dall'espressione luminosa e felice. Stretta, dietro a lui, era una ragazzina dall'aspetto di una zingarella, con gli occhi e i capelli neri, con le guance rosse come il suo cappuccio, con un visetto allegro e splendente, che agitava come una bandiera la sciarpa azzurra di Jack, tenendosi alla slitta con l'altra mano. Jill va ovunque va Jack e lui non la lascia mai, è così bravo che non sa dire di no. Ad una ragazza, soggiunse malignamente uno dei ragazzi, che, desiderando farsi prestare la slitta rossa, si era sentito porre un gentile rifiuto, perché la voleva Jill. Non osa arrabbiarsi con Jill, perché se lo facesse, lei gli caverebbe gli occhi in due minuti, brontolò Joe Flint, cui ancora bruciava il ricordo del rabuffo che gli aveva fatto Jill. Non è vero, Jill è tanto cara, è inutile che tu la guardi dall'alto in basso perché è povera, è molto più intelligente di te, se no non sarebbe stata la prima della classe, esclamarono le ragazze, prendendo le rifese della loro amica, il che dimostrava, come Jill, fosse la beniamina di loro tutte. Poi tutti si sparpagliarono allegramente per le ultime discese, dato che il sole stava tramontando e il vento e il tagliente pungeva piedi e nasi. La gente che passava nella strada, al di sotto, alzava gli occhi e sorrideva a quei ragazzi e quelle ragazze dalle guance rosse, che riempivano l'aria gelida, di scoppi, di risa e di grida di trionfo, e che volavano sulla neve in tutte le posizioni possibili ed immaginabili. Jack, fammi fare quella discesa, Joe ha detto che io non avrei avuto il coraggio di farla, perciò devo farla, ordinò Jill, mentre si fermavano per prendere fiato dopo aver risalito il pendio. Jill, naturalmente, non era il suo vero nome, ma l'era stato data a causa della sua amicizia con Jack, che ammirava molto lo spirito e l'allegria di Jane Ipec. Non è il caso, è tutta gobbe e finisce in un grosso mucchio di neve. Non è bella come questa. Salta su e faremo una bella corsa sullo stagno. E Jack fece girare piano la slitta con un abile movimento, guardando l'amica con un'espressione così gentile che avrebbe persuaso chiunque all'infuori della catarbia Jill. Va bene, ma io voglio che nessuno possa dire che non ho il coraggio. Se tu hai paura, andrò da sola. E prima che Jack potesse replicare, gli strappò la corda di mano, si gettò sulla slitta e si precipitò in fretta per la discesa più pericolosa della collina. Se tu vuoi andare, ti porterò giù. Non ho paura, perché l'ho fatta una dizina di volte con gli altri. Ma l'abbiamo abbandonata perché è troppo breve e brutta, disse gentilmente, benché un poco offeso per essere stato accusato di vigliaccheria. Jack era invece coraggioso, come un leoncino. Insieme, i due fanciulli risalirono al punto da cui partivano le tre discese. «Allora, quale vuoi fare?» domandò Jack, con uno sguardo a monitore e negli onesti occhi azzurri che spesso inconsciamente smorzavano gli ardenti spiriti dell'indocile bimbetta. «Quella!» E il guanto rosso indicò risolutamente la discesa pericolosa appena tentata. «Vuoi farla davvero?» «Sì!» «Vieni allora!» «Tieniti stretta!» «Voi ragazzi credete che alle ragazze piacciono le discesine senza divertimento né pericolo?» «Come se noi non fossimo capaci di essere forti e coraggiose quanto voi!» «Facciamo tre discese e poi basta!» Si sistemarono nella slitta senza troppo pensarci e partirono discutendo ancora con tanta animazione che Jill si dimenticò di tenersi stretta e Jack di guidare con attenzione. Ahimè per la festa che non avrebbe mai avuto luogo! Ahimè per la povera slitta che volava cieca nel suo ultimo viaggio! Ahimè per Jack e Jill che caparbiamente scelsero la strada sbagliata e per i quali, per quell'inverno, il divertimento doveva finire! Nessuno poteva capire come avvenne, ma, invece di fermarsi sul mucchio di neve o contro lo steccato, ci fu un grande schianto contro le sbarre, un tuffo pauroso giù per la ripida scarpata. La bimba, il ragazzo, la slitta, lo steccato, terra, neve, precipitarono l'aria rinfusa per la strada. Due gridi e poi il silenzio. «Sapevo che sarebbe finita così!» Dal palo su cui si era inerpicato Joe agitò le braccia e gridò «È successo un incidente! Correte! Correte!» «Como un corvo gracchiante su un campo di battaglia!» «Arimano le slitte proprio in tempo! Corro a dire a uno di loro di venire qui in fretta!» «Avete avuto un piccolo incidente, eh? Vediamo un po' allora!» «Prima Jill, per favore!» disse Ed, il gentile paladino delle fanciulle, estendendo il suo cappotto sulla slitta. «Benissimo! Abbandonati, mia cara, e se mi sarà possibile, non ti farò male!» Nonostante le precauzioni del signor Grant, Jill avrebbe urlato di dolore quando egli la sollevò fra le braccia, ma la piccola strinse le labbra e sopportò il dolore con coraggio di un piccolo indiano, perché tutti i ragazzi la guardavano e Jill era fiera di dimostrare che una ragazza è capace di sopportare il male quanto un ragazzo. Non appena fu sistemata nella slitta, nascose il viso nel cappotto per nascondere le lacrime. Grazie dell'ascolto e arrivederci!